Demetos Demir ha fatto una campagna di beneficenza e ha dato l'esempio a tutti. I suoi fan sanno quanto la famosa attrice Demetos Demir cerchi di aiutare le persone in situazioni difficili. Demetos Demir, in particolare prendendo provvedimenti per sostenere i bambini con SMA, ha lanciato una nuova campagna. La famosa attrice ha messo all'asta l'abito che ha indossato al matrimonio della sua amica Zeynep Bastik. Demetos Demir donerà anche i proventi della vendita del suo popolare vestito per il trattamento di Alperen, che ha la SMA. La famosa attrice fa spesso buone azioni come questa. In effetti, l'obiettivo più importante di Demetos Demir è quello di dare l'esempio a molte persone e aumentare le campagne di aiuto. Demetos Demir, che ha annunciato l'asta con il suo post sul suo account Instagram, ha raggiunto il suo obiettivo tornando in cima all'agenda.